Bellissima domanda, grazie. In questo schema come inseriamo, come io personalmente inserirei la forza di volontà? Allora sulla forza di volontà c'è tanto da dire, quindi cercherò veramente di sintetizzare al massimo. La forza di volontà è veramente non Davide di fronte a Golia, ma Davide di fronte a dieci Golia messi uno sull'altro, quando è pura volontà razionale, cioè non ha nessuna possibilità contro l'inconscio. Il rapporto è 5001, fate questo e capirete. Finché io ho delle convinzioni inconsce che non vedo, ho delle motivazioni inconsce che non vedo, posso impegnarmi con tutta la forza di volontà. Questo lo potete vedere dalle cose più semplici, tornate sempre alle cose semplici e quotidiane. Quante volte vi dite devo alzarmi mezz'ora prima la mattina per andare a camminare? Proprio le cose semplici. Due giorni, poi dopodiché non si fa più. No, devo iniziare a mangiare in modo diverso. Due giorni e non si fa più. Devo andare in palestra? Non si fa proprio, nemmeno due giorni, cioè non ti vai nemmeno a iscrivere. Queste sono cose che io sento dai miei clienti tutti i giorni. Proprio difficoltà nelle piccole cose. Perché? Perché per quanto sembri semplice inserire una nuova routine, va contro l'inconscio che ha trovato invece il suo equilibrio. Allora la razionalità dice la palestra fa bene, l'inconscio dice alzarmi mezz'ora prima, ma che stai a di? Sì, è meglio dormire. Cambiare, inserire questa cosa vuol dire rinunciare a quell'altra cosa che io ho incastrato in anni. Poi cambiare vuol dire, questo è l'inconscio, cambiamento, vuol dire comunque sforzo. Io sto bene come sto. L'ego, tornando all'ego, ha una caratteristica che è anche un altro segnale preciso, è pigro. Un ego atletico, non ce l'ha nessuno. Non è che l'ego, cambia, ah sì, sono l'ego atletico. No, l'ego è pigro, vuole stare là dove sta. Allora, se è difficile mangiare un cioccolatino in meno dalla prossima settimana, iniziare la dieta il lunedì, andare in palestra o inserire 12 minuti di allenamento al giorno, immaginate quando parliamo di cambiamento rispetto a dei copioni di vita. La forza di volontà purtroppo ci fa sentire spesso sbagliati proprio perché non capiamo che non è questione di volontà. Un depresso non può uscire dalla depressione con la forza di volontà. Ora ho preso un esempio, diciamo, grande, ma una persona che vuole uscire da una dipendenza affettiva non esce con la forza di volontà. Quindi la forza di volontà va bene e ci vuole dopo che hai messo a posto un po' di tasselli. Cioè quando la confusione viene un po' risolta, vedi tutte le risorse che hai. Dopodiché riesci a cambiare punto di vista e lavori sulla fissità. Cioè riesci a darti proprio torto. L'ego dice io ho ragione e tu, come vi ho detto prima, dici ma se avessi proprio torto, se quello che vedi è proprio torto marcio, non è come la vedo io. Come sarebbe? Se riesci a fare questo, alleni a uscire dalla fissità. Dopodiché devi fare un minimo di lavoro molto semplice su, semplice ma onesto, su quali benefici mi dà rimanere in questa sofferenza. Perché la sofferenza ha i suoi benefici. Altrimenti la elimineremmo. Quali benefici mi dà? E dovete fare la lista. Poi vi tirate giù anche due convinzioni. Io sono convinta che, avete visto, quando ho chiesto, non mi ricordo a chi pensi di poter uscire da questa situazione, ha risposto su, ma non so se voglio uscire dalla situazione. Io ho detto, a chi era? No, voi tu. Ah, Silvia, Silvia, sì, era Silvia. Sì, sì, eri tu. E lei ha risposto, non so se voglio uscire. Sì, ma rispondi alla prima domanda. Pensi di poter risolvere questa cosa di uscire? Ma sinceramente una voce mi dice no. Che è quella voce? Dopo la domanda diventa consapevole. Ma la voce è la convinzione inconscia. Ha una convinzione che da quella situazione lei non può uscirne. E ho detto, ok, allora rimani così, vediti questa convinzione, poi ne riparleremo. Perché? Che vado a lavorare sulla forza di volontà, a dire prova la strategia della tecnica quantistico-magica che la scintilla divina ti aiuta. No, se c'è la convinzione non ce la faccio. Non ce la facciamo, perché non si attiva il nostro sistema. Il problema è che lei non la vedeva nemmeno quella convinzione. Lei vedeva un'altra convinzione che era più comoda e più in vista. Non voglio. Notate che in tutte le dipendenze si sostituisce il non riesco al non voglio. Chiedete a un fumatore, smetti di fumare. Anche domani, ma perché non voglio. Dipendente affettivo, ma ti rendi conto che dovresti uscire da questa situazione? Soffri come un cane. Non so, però che ti devo dire? Non voglio uscirne. Imparate a distinguere anche questo. Per dire non voglio devo passare dal posso. Allora, chiedetemi di battere le mani e ora vi posso dire non voglio. Però ho verificato che posso. È semplice, lo schema è proprio questo. Se voi dite voglio smettere di fumare, però non vedo motivazioni, non voglio farlo. Allora, prendete il pacchetto di schiarite, state senza fumare una settimana e dopo potrete dire non voglio. Però dovete avere la capacità di farlo. Invece noi scambiamo abilmente il non riesco con il non voglio. Dite se è chiaro questo. Ok? E spero di averti risposto sulla forza di volontà. Grazie a te. C'era un'altra domanda da qualche parte, no? Allora, tu dici, su cose anche minime pratiche, tipo svegliarsi presto la mattina, non è che c'è molta confusione, fissità, ignoranza, non lo so. Probabilmente però ci sono, sicuramente, ci sono delle convinzioni e devi tirare fuori. Allora, che fai? Svegliarmi tardi la mattina significa? È tutto quello che ti fiorisce, perché l'inconscio è così, sono flussi, arrivano. Non devi pensare logicamente, razionalmente. Devi farti questa domanda. Per me svegliarmi tardi la mattina. Ve ne dico una, per esempio. Se esce fuori significa avere la mia libertà? Ciaone, ma proprio ciaone, perché la tua forza di volontà andrà a bussare contro un valore. L'inconscio dice, per me, svegliarmi a che cavolo di ora voglio, uguale sono un essere libero. Tu arrivi, sì, ma noi se facessimo la passeggiata, non lo so, avrei le gambe più snelle. Vi rendete così? Sono un essere libero, starò meglio con le gambe. Davide contro dieci colia. E allora si lavora su quella convinzione e si va a vedere con i dati di realtà che puoi rimanere l'essere più libero del mondo, alzandoti prima. Anzi, addirittura qui a volte si fa l'inversione del valore, cioè si fa vedere, si include quell'alzarsi prima come maggiore libertà. Ora non vi dico come, però capiamo il concetto. Alzandoti prima sei ancora più libero di fare delle cose, eccetera. Quando vai a integrare, vedi che, e non scherzo, casi reali, se l'avete sperimentato anche voi potete testimoniarlo, vedi che non è che non fai più sforzo, non ci vuole più la forza di volontà. Arrivata alle cinque e mezza apri gli occhi, anche senza sveglia, perché hai integrato nel tuo sistema. Io lo chiamo l'effetto gita scolastica, perché lo sapete, i miei nomi sono per dove ho imparato le cose. Io la prima gita che ho fatto in terza media, mi ricordo, forse anche prima, non mi ricordo, sì, forse anche in prima media, comunque la prima gita che ho fatto, la ricordo, alla reggia di Caserta, mi sono svegliato automaticamente, me lo ricordo ora a 50 anni. Perché? Perché tutte le mattine era una lotta. Svegliati, no, voglio dormire mia madre, togli le coperte, no, no, copri, perché volevo resistere. Quando c'era il giorno più bello, andare in gita con i miei amici, non vedevo l'ora, mi svegliavo anche durante la notte e dici, mica è tardi, mica è tardi, il tuo sistema cambia. Questo vuol dire sfruttare a favore il nostro inconscio. Quando ti fai amico il tuo inconscio, è lui che lavora per te. Quando ce l'hai nemico e provi con la forzina di volontà a dire, ma sai, ci sarebbe un vantaggio ad andare in palestra. Navitaccio. Ci vuole un grande cacciavite, ragazzi. Bisogna attrezzarsi. Ditemi se è tutto chiaro. Allora, tu dici, sarebbe come trovare una motivazione. In realtà, ni. Perché se trovi una motivazione razionale, ma l'inconscio ha le sue motivazioni e non scopri le motivazioni dell'inconscio che sono contrarie, non vanno in quella direzione, sempre al ciaone ti trovi. Prima dobbiamo capire che cosa blocca per poi poter, è quasi sempre possibile, è quasi sempre possibile invertire i pensieri inconsci. Inconscio vuol dire solo che io non lo conosco, che è al di sotto della soglia della mia consapevolezza, ma sono sempre pensieri, sono sempre convinzioni. Confrontarsi con i dati di realtà e modificarle è quasi sempre possibile. Li devo solo rintracciare. La parte più difficile è rintracciare le nostre convinzioni. Finché non abbiamo il coraggio di autoosservarci, finché non abbiamo il coraggio di vederle certe convinzioni perché sono scomode, continueremo ad agire in quel modo. Vi faccio un esempio. Sempre sul caso di Deborah. Avete visto quando è uscito fuori mi fa sentire una madre sbagliata? Nessuno ti può far sentire una madre sbagliata. C'è una voce dentro di te, c'è una convinzione dentro di te che se faccio X sono una madre sbagliata. Ora non è difficile farle vedere, ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora per farle vedere che non sei una madre sbagliata se, invento, non accompagni tuo figlio tutti i giorni a calcetto. Sto inventando, non voglio tornare sui fatti di Deborah. Però se dentro di te non hai la capacità di vederla, quella convinzione, continuerai a mascherare quel tuo essere sempre a disposizione di tuo figlio come bontà, amore, che però ti produce malessere. Quando è bontà, amore, non è frutto di una convinzione contraria, produce libertà, tranquillità. Quindi vedi una mamma che accompagna il figlio, è felice di farlo, sta tranquillo. Non è che non è stanca, capiamoci. È stanca però dice no, che bello, sono contento che mio figlio... Quando quelle mamme dicono eh, lo devo accompagnare tutti i giorni, guarda, sai che mamma mia, ho pure un po' d'ansia ogni volta, ho un mal di testa tutte le sere. Cioè ti dice che sta male, però lo accompagna. Che cos'è? Quello è una forzatura inconscia. Cioè sotto c'è per capirci se non faccio tutto per i miei figli, sono una cattiva amare, una cattiva persona, non amabile, è finita. chiaro? Ok, direi che con lo spiegone ci possiamo fermare qua e facciamo altra pratica. Ok, siete stanchi no? Sì.